Sì, si prende la mano. Sì, si prende la mano. Sì, allora fammela resettare. Qua sta cattiva. Sì, bambino, c'è un po' più di un aiuto perché se metti a spedio la cieli è... Sì, sta morta. Va bene. Fai un bel video della traiettoria, vuoi che ti accompagno? Eh, magari. Fai con lo scuderone. Non ho scordato che è automatica. Cristo. Come cazzo? Eh, gira la macchina. Grazie. 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 Grazie a sinistra. Grazie. 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 accedere vai 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 come dritte vai arriva in fondo palla larga arriva il paletto di fondo e poi giri e dai tutto casta a salire vai dritte vai non mi fido dai gas dai gas dai vai bravo bravo sai che si deve dare non hai la foto da pista eh lo so dai piedi vuoi essere a palamento vai 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 è andata proprio dritta la stai guidando come la foto da pista la ripostazione che fai è sbagliata capito? perché devi troppo scaricare troppo tutto per poter uscire è tutto è molto più facile quindi devi cercare di mantenere sempre le ruote della massima aderenza che è quella centrale quindi devi cercare di fare un po' al contrario rispetto a quella che è la fila romana l'ultima non è la fila romana non è la fila romana ma non è la fila romana si può uscire un po' al contrario rispetto a quella che è la fila romana ah donna non è la fila romana non è la fila romana non è la fila romana Il ritmo stava aumentando, però era prevedibile la caduta così perché hai forzato troppe volte l'aderenza, devi cercare di dare gas, quando guidi in pista con la gomma tutta chiuda, tu corri e hai sempre la stessa aderenza, quando corri la gomma è quadrata, aperti proprio la moto, oppure non riesci a girare, perché quando qui hai voluto fare la curva come volevi è la ruota davanti che ti ha lasciato, perché tu hai girato e poi la ruota ti andava insopra stessa, se invece arrivi, se le devi pennellare, è come guidare sul bagnato, in pista, la stessa cosa, vai, ok, devi spegnere e riacciare. Aspetta, metti il cotone trazione a uno, altrimenti non cammina da uno, vai, ma devo fare tipo così. Benito! Bumba, metti le gomme 30 e poi la ceneri, vai, 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 a scherzi aspetta la Ok, largo, strizzi ed esci largo, esci largo, esci largo. Tonda, tonda, vai strizzi, stupido a sinistra, ruote dritte e accelera. Vai, tonda, tonda, ruote dritte e accelera. Ok, qui la devi anticipare, stupido a te, anticipa, anticipa. Stupido a sinistra, stupido a sinistra, accelera, accelera, accelera. No, 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 no. Tonda, tonda, ruote dritte e accelera. Vai giù, quello dritto arriva in fondo, arriva in fondo Vai, vai, gira, 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 gira ancora Metti le gomme dritte e stai, vai Vai, vai, gira, 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 gira Bravo! Bravo! Ma mia! Gira subito, gira subito, dritta in centro, vai! Vai, largo, guarda dove sto io, guarda! Vedi, così la pagliotta tu, vai! l'erba è petente portaci quando vai negli abbandonati, quanto vale? un pelino al ginocchio ma solo una botta cazzo, come è stato accaduto? perché hai persato il reso? perché hai accelerato? e poi stai seduto, se stai in piedi e fai lavorare le sospensioni meglio da seduto, quando prendi la botta la moto ti scalcia e tu perdi la forza perché ti sollevi e perdi l'assetto tuo e quindi la moto ti parte vabbè no, da dietro, da dietro l'ho rimesso al ginocchio sinistro vero? se stai in piedi mi sento bene, bene se stai in piedi via 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 Grazie. Grazie. Grazie.